Cesena, Cesena che deve provare anche a sfruttare i centimetri dei suoi centrali, soprattutto le palle inattive. Salgono Routiens, Noce, Benassi, va a battere Alessandro da quella parte anche Campagna, al limite Cioffi. Alessandro dentro l'area, di testa Routiens! Subito Routiens! Vantaggio del Cesena, firmato Christian Routiens! Di testa, bravissimo il difensore centrale spagnolo, la sblocca lui! Grande angolo di Danilo Alessandro, il colpo di testa del debuttante, difensore centrale, rivediamo, sontuoso colpo di testa di Routiens! Pallone nell'angolino, imprendibile per Mazzocchetti, 11 sul cronometro, Cesena 1, Real Giulianova 0 e ora Mazzocchetti avrà sicuramente più fretta! Grande stacco di Routiens! 1-0 dunque per la squadra di Beppe Angelini, direi un debutto indimenticabile per lui, rivediamo! Battuta dalla bagnerina perfetta di Danilo Alessandro, è perfetto anche lo stacco di Routiens, più alto di Di Paolo e poi esultanza tardelliana per lui! Andiamo a rivedere, bravissimo a prendere posizione, davvero bravo qui l'ex giocatore di Re Canattese!